Benvenuti in un nuovo video! E benvenuti in un nuovo video unboxing! Questo è un unboxing un po' speciale perché questo video è in collaborazione con Itinerando Quindi io prima di tutto vi ringrazio tantissimo per questa opportunità che ci avete dato e hanno dato la possibilità di scegliere anche perché sapete abbiamo fatto veramente tantissimi video assaggi quindi avevamo un po' paura di toppare un po' quindi abbiamo deciso di scegliere i nuovi prodotti ovviamente l'abbiamo scelto insieme però prima di farvi vedere i prodotti vi voglio un po' illustrare tutto Itinerando è un sito che trovate in un shop online però è molto particolare diciamo che è un sito che piace molto a me perché ha comunque la possibilità di provare tanti cibi, tanti snack diversi comunque ha dei cibi di snack provenienti da tutto il mondo troverete snack salati, snack dolci, preparati riso, pasta, ramen, bibite, carne secca tantissime novità ma anche caramelle quindi io ho scelto un po' di prodotti abbiamo fatto un po' diciamo misto vi volevo dire che ovviamente hanno pensato anche a voi mi hanno lasciato per voi un codice sconto del 10% che è Giulia 10 ovviamente valido fino al 15 novembre poi vi lascio tutto oggi nell'info box che non è affiliato no non è affiliato ecco non è un codice sconto non è affiliato io sono troppo contenta quindi mi diventi alcune cose e che dire veramente i prezzi sono ottimi infatti questo abbiamo detto un altro ordine che faremo noi ci scapperà sicuramente perché sapete che ci piace sempre supportare ma anche ci piace provare i prodotti ma è molta scelta tanta scelta infatti noi siamo andate un po' in crisi poi mi sono aggiornata per seguire praticamente ok prendiamo questo no aspetta prendiamo questo e quello così casino e un'altra cosa che volevo dire ovviamente a noi il pacco è stato spiegato composto italiano velocissimo un giorno lavorativo ed era anche tracciato fantastico che dici? sì no questo è l'ora raga abbiamo scelto i prodotti ma io non mi ricordo stessi non mi ricordo niente prego iniziamo ad aprire fateci sapere se conoscevate esatto fateci sapere se già avete acquistato oppure se dopo questo video andrete un po' a curiosare ma già lo so che lo farete vi dico già una cosa quindi mettetevi comodi che oggi è lunedì quando vedete questo video sarà lunedì mercoledì e venerdì ci saranno i due video assaggio alle 14 quindi attivate il promemoria ce l'abbiamo fatta ovviamente carta sopra inizio a pescare della lace sour cream e onion quindi sal io mi imbroglio sempre sulla salsa panna acida panna acida e cipolle eccola qui ovviamente snack salato che è la mia gioia la dono mai pesca queste anche queste erano buonissime madonna mia perso ma fallo più cheese non lo so lo scopriremo allora io penso che è tipo qualcosa sicuramente tipo di piccante di affumicato carne salsa vabbè raga comunque è questo l'abbiamo sempre voluto provare ogni qualvolta che andavamo in un sito o non c'era mai oppure i prezzi erano alle stelle e quindi abbiamo sempre detto no invece della verità i prezzi sono accessibili quindi andate a darlo sguardo poi ho visto che ci sono tanti altri prodotti che noi abbiamo recensito quindi pure se volete fare un unico ordine andate sul tranquillo quindi questo qui tocca a me questa ho paura teriyaki questo è il lato asiatico esatto teriyaki orientale questo era no con la salsa teriyaki ok sì perché noi tra due ok eccola qui io non vedo l'ora di provarle sono i 30 grammi belle fine vai ah io devo andare come ce l'hanno anche diviso tra salato e dolce ma guardare ah ma l'abbiamo presi poi sì sì ok abbiamo preso anche i nacho dip questa qui io suppongo questo è il lato messicano questo è il lato messicano però questa sia la salsa quella lì proprio strong sì 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 e non mi riesco a vedere vabbè ah non c'è scritto più salsa più salsa beh pensate proprio quella originale sì sì moriremo sapete il mio amore per i sapori forti quindi c'era proprio la mia morte sì no era da provare questa no dovevamo vai vai no io l'ho pescato tu non siamo bene raga questi appena l'ho visti ho detto no va bea ma allora il gusto è mango sono in pratica sono dei cremati con la crema di mango all'interno facciamo così perché altrimenti perché vorrei anche cimentarmi a pronunciare ma meglio che non mi cimento eccolo qui ovviamente io che cosa farò giù nell'inbox vi lascio i link così di tutti i prodotti che io vi ho mostrato così se c'è qualche prodotto in particolare cliccate sul link e aggiungete al carrello comunque a me questo mi spiega ma poi io lo sai mi pensavo che fosse una mini taglia no invece è il pacco grande invece è il pacco grande ho detto vabbè sicuramente sarà una mini taglia tipo un pacchettino invece no non so quanti grammi in Siria no 190 grammi buono buono poi questo halloween halloween che è questo? le avevamo troppo belle white pumpkins che sarebbero le zucchette però è sempre originale sì 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 ok vuoi vedere? vai fa vedere meglio non vedo l'ora vai le ho sempre voluti provare i Kit Kat così molto particolari con gusti io non le avevo mai viste io le avevo visti però non sono mai riuscita a trovarli sugli altri siti quindi loro ce l'hanno quindi li adoro Kit Kat Lemon Pio Pie Lemon Pie Tata Lime mi vuole adoro questo secondo me sarà buono ovviamente è un'edizione limitata quindi il sito ha tantissimi prodotti in edizione limitata quindi li ho ah le ho presi sì sì wow pensavo di no adoro this is non so quale sia la praticamente mi sembra che completamente ricoperto di peanut butter pure sopra ah ok questi ne li abbiamo mai rubati l'adoro ispira no ma questa mi sembra che non voglio dire però mi sembra o sono qui ci sono dato no un po' puro da ratti dietro no mi sembra che anche questa è una novità sì sicuramente almeno per noi sì perché non l'abbiamo mai vista ok vado io ho quasi per finire ah ultimi due pezzi se avete visto gli altri video Arizona cioè Arizona ci ha fatto letteralmente sognare quindi non potevamo non prenderla questo è gusto tè no limone limonata veramente il tè limone tè con limone ecco ah ci sono tantissimi altri gusti è bello no vabbè abbiamo scelto questo ne l'abbiamo conservate mi viene sempre a mente quella scena adoro ok vai prego ti ho lasciato l'ultima per te pepsi mango pepsi mango no vabbè ma tu come è fredda quindi l'ho notato addoro dai un bel po' di fili si è possibile di pericosti da realizzare ovviamente i vari video che vi vedete mercoledì e venerdì grazie ancora di Tirando per averci dato comunque questa opportunità che comunque era una idea a tutti quindi nulla io ne speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao